Buongiorno a tutti. Eh in quest'ultimo periodo su Liberi Oltre Uno abbiamo parlato spesso di ehm aborto in seguito alla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di ehm revocare Roe versus Wade e quindi sostanzialmente delegare la possibilità di stabilire leggi autonome in maniera di aborto ai singoli stati. Ehm nelle live che abbiamo fatto con Marco Bellandi Giuffrida e con Adriano Palma e con Gerardo e con Matteo Poloni abbiamo discusso di vari argomenti e ehm uno degli argomenti che abbiamo toccato o almeno io cerco di toccare è stato l'argomento del come si forma effettivamente il feto e l'embrione e qual è il razionale dietro al compromesso legislativo che garantisce l'aborto, l'interruzione volontaria di gravidanza eh prima del terzo mese non per finiti terapeutici parliamo proprio dell'interruzione volontaria di gravidanza ehm prima del terzo mese in Italia e diciamo irrazionale intorno a certe decisioni appunto in vari altri stati. Ora ehm questa queste considerazioni mi hanno dato lo spunto per effettivamente cominciare a proporvi una serie di eh registrate di live di letture di di considerazioni di discussioni chiamatele come volete qui su STEM un po' più tecniche eh perché ci piacerebbe andare un po' più sul tecnico sul canale STEM e cominciare a parlare veramente di scienze dure e ehm una delle cose ne ho parlato anche con Michele Boldrin e con Fabio Pietranera e con vari altri esponenti appunto di Liberi Oltre uno degli elementi che vorremmo portare è proprio mettere delle eh inserire sul canale STEM delle lezioni ehm proprio a contenuto puramente divulgativo su ehm argomenti eh di scienze in generale scienze neuroscienze fisica eh ingegneria chi più ne ha più ne metta abbiamo già cominciato in realtà ma personalmente vorrei cominciare una rubrica di neuroscienze un po' più ehm eh dettagliata che porterò avanti una volta ogni due tre settimane e parlerò di anatomia del sistema nervoso un po' di neurochirurgia un po' di neurofisiologia insomma delle aree di mie competenze e approfitto delle live sull'aborto per parlare oggi di embriologia del sistema nervoso che mi sembra un ottimo argomento per cominciare a parlare proprio di neuroscienze eh dure. Allora è un argomento molto molto vasto quindi quella la la chiacchierata che facciamo oggi sarà una chiacchierata eh introduttiva in cui vi spiegherò dei concetti cercherò di spiegarvi dei concerti dei concetti basilari di come si forma il sistema nervoso negli uomini eh nelle nella specie umana e eh quali sono i processi che lo guidano e quando è che si può effettivamente cominciare a parlare di encefalo cervello propriamente detti. Ehm è un argomento che riprenderemo in futuro perché ci sono degli aspetti molto specifici legati per esempio alla formazione delle sinapsi della sostanza bianca eccetera eccetera che richiederebbero delle live a parte. Quindi oggi parliamo di principi generali. avrei voluto invitare un qualcuno ehm diciamo che questo è un argomento che conosco abbastanza bene per motivi professionali avrei avrei voluto invitare qualcuno che se ne occupasse anche meglio di me un professore di embriologia una professoressa di embriologia ma finora purtroppo ho fatto vari tentativi e sono tutti andati a vuoto quindi vi dovrete sorbire me che parlo di questo argomento spero nella maniera più accurata possibile. Allora direi che comincerei a ehm mostrarvi le slide che ho preparato per l'argomento e facciamo jump in ecco perfetto questa è la visualizzazione. Allora io avrei voluto non farvi vedere il pdf ma farvi vedere le slide in powerpoint ma sfortunatamente il powerpoint non sembra andare d'accordo con Stregna. Dunque in questa eh prima diapositiva potete vedere eh diciamo le fasi iniziali della gravidanza e queste eh bisogna fare una carrellata bisogna operare una carrellata su questo perché è fondamentale per il discorso che andremo a fare più avanti. Dunque cosa succede? Eh rapporto sessuale eh l'ovulo nella parte centrale del ciclo l'ovulo se ne sta bel bello espulso dall'ovaio eh nella tuba attendendo diciamo la l'arrivo dei cavalieri erranti degli spermatozoi fecondazione di uno spermatozoo all'interno dell'ovulo e lo vedete qui e eh a questo punto il i due le due emimetà del codice genetico sono fuse insieme quindi abbiamo ventitré paia di cromosomi la cellula è completa. Per capirci l'ovulo e lo spermatozoo si definiscono gameti e ognuno contiene metà del codice genetico del donatore o della donatrice quindi nell'ovulo ci sono appunto ventitré emicromosomi così come nello spermatozoo e eh per quale motivo questa cosa succeda in nella specie umana in tantissime altre specie che si riproducono per via sessuata eh c'è tutta un una letteratura sterminata sull'argomento non la tocchiamo oggi però sostanzialmente si si pensa per limitare la possibilità di problematiche genetiche nella popolazione ehm ed è il motivo per cui eh la riproduzione fra consanguini è problematica perché sostanzialmente è un rimpasso dello stesso codice genetico quindi se c'è un difetto genetico se lo portano dietro. Ora i due DNA sono uniti quindi la cellula questa cellula eh questo zigote a questo punto comincia a replicarsi. Quello che vedete qui a sinistra è eh un primo una prima mitosi mitosi è il processo con cui ehm la cellula si divide e lo zigote a questo punto diventa un un elemento che contiene due cellule e poi di me contiene tre poi otto e così via. Tutto questo avviene diciamo in tempi relativamente rapidi cioè entro quarantotto settantadue ore si arriva a questo risultato qui che è quello della morula. La morula è a questo punto un insieme di cellulette che se ne vaga per la tuba uterina migra attraverso la tuba uterina e va a cercare di impiantarsi sulla parete dell'utero. A questo punto la no la morula durante durante la fase di impianto succede una cosa interessante ossia che la la morula comincia queste cellule cominciano a disporsi in una maniera tale da formare una cavità. C'è una cisti all'interno della morula. Questa cisti vuota invece di me se ci sia fluido dentro ehm fluido sieroso eh si chiama blastocisti. Blast è un suffisso o prefisso dipende dal contesto in cui lo stiamo utilizzando che indica cellule che blasto sono cellule che hanno un alto potenziale di replicazione e di sviluppo. Per esempio quando stiamo parlando di alcuni tumori che hanno il suffisso in blast spesso sono tumori estremamente aggressivi proprio perché sono formati da cellule poco differenziate e con alto potenziale replicativo nell'ambito della neurologia pensate al glioblastoma al medulloblastoma al neuroblastoma siano blastomi perché hanno queste cellule stranissime in questo caso cancerogene che ehm cancerogene letteralmente tumorali oncologiche che eh si replicano come se fossero cellule staminali quindi ad altissima velocità e con un potenziale enorme. Ora la blastocisti si è cavitata ha formato questa cistina a questo punto si impianta sulla parete dell'utero questa roba avviene entro la prima settimana ed è qui che la il discorso si fa più interessante. Allora la blastocisti come abbiamo detto si eh ha questa cavità cavità cistica con un ammasso di cellule invece che eh si trova diciamo attaccata in un punto specifico di questa cavità cistica. questa 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 struttura a questo punto è impiantata comincia a formare una seconda cavità diciamo la la cavità della blastocisti diciamo tipicamente è una cavità che rimane inferiormente mentre invece questo ammasso di cellule si comincia a disporsi in un disco che si separa dalla parete a cui era attaccato prima le cellule del trofoblasto appunto trofo da nutrire perché questa questa struttura adesso impiantata nella parete dell'utero comincia anche a organizzarsi una sua microvascularizzazione cioè dei vasi sanguigni che la possano nutrire costantemente per ehm per mantenere la in vita e per garantirne poi la replicazione successiva e l'ingrandimento successivo quindi dicevamo comincia a svilupparsi un disco che si distacca dalla parete e quindi a questo punto abbiamo due cavità cistiche la cavità inferiore andrà a far parte di quello che è il sacco vitellino che è una propaggine poi del sarà diventerà una propaggine poi della della cavità addominale che poi si atrofizza e sparisce la guida la cavità superiore farà parte del eh sacco amniotico che si ingrandirà sempre di più in mezzo questo mucchietto di cellule che avevate prima la massa cellulare interna diventa si dispongono a disco e formano questi due strati di cellule che sono l'epiblasto e l'ipoblasto ecco qui questa parte di cellule che vedete qui è quella che andrà a costituire effettivamente l'embrione allora voi immaginate una visione tridimensionale di questa struttura avete una cosa di questo tipo però lasciate perdere questo strato intermedio che ci arriviamo fra un attimo ma l'epiblasto sarebbe questo in azzurrino in blu e l'ipoblasto sarebbe questo in giallo epi dal greco sopra ipo sempre dal greco al di sotto ok uno strato un disco bilaminare formato così ora a questo punto nell'epiblasto succede qualcosa di molto interessante ovvero sia grazie alla secrezione di una serie di fattori di migrazione si chiamano sono sostanzialmente delle proteine che agiscono come dei segnali all'interno di questo disco che si sta sviluppando grazie a questo a questa c'è un fittissimo scambio di segnali tra le varie cellule che sono disposte in questo disco quello che succede è che comincia a verificarsi un'invaginazione dell'epiblasto alcune cellule cominciano a migrare all'interno di questo solco che si forma in questo momento che si chiama linea primitiva o strea primitiva o striscia primitiva a seconda del testo cosa sta succedendo a questo livello quello che succede è che queste cellule migrano praticamente dall'epiblasto al di sotto dell'epiblasto ma al di sopra del lipoblasto quindi formando un terzo strato di cellule a metà come vedete bene in questa rappresentazione questa linea primitiva tipicamente si comincia a sviluppare dal uno dei poli del disco dimenticavo di dirvi che questo disco ovviamente organizzato in poli cioè un polo superiore un polo inferiore adesso lo vediamo meglio e la linea primitiva nasce in uno dei poli del disco quello inferiore tipicamente e si muove in senso infero superiore o cranio o caudo craniale vedremo cosa significa in un momento e questa linea praticamente quello che succede è che delle cellule dell'epiblasto migrano formando uno strato intermedio fra epiblasto e ipoblasto se voi prendete un'altra sezione un'altra visione di questo disco ecco questa è una visione dall'alto e questa è una visione laterale è molto più chiaro quello che vi stavo menzionando prima ovvero sia il polo inferiore di questo disco si chiama che è coperto da questa membrana che si chiama membrana cloacale andrà a costituire anche il polo inferiore dell'embreone cioè qui sarà sostanzialmente dove si costruirà si andrà a localizzare la parte inferiore della schiena e del tratto digerente cioè l'ano sarà localizzato qui mentre invece superiormente il polo craniale è quello nel quale si svilupperanno le strutture della testa e dell'encefalo ora questa strea primitiva di cui menzionavo prima parte dal polo inferiore e comincia a migrare verso il polo superiore e c'è questo nodulo chiamato nodulo di ensen o nodulo primitivo che praticamente rappresenta un rigonfiamento superiore della strea primitiva ora se però noi prendiamo questo disco e andiamo a farlo una sezione laterale cioè tagliamo qua virtualmente e guardiamo lateralmente questo è quello che vediamo da queste cellule blu che vedete qui in tutto questo questi processi mentre si verificano c'è una continua 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 riplicazione di cellule ok le cellule aumentano di numero sempre di più tra queste cellule blu che rappresentano l'epiblasto la strea sono viste da questa prospettiva lateralmente ecco la strea primitiva si trova più o meno qua e c'è questo fossetta primitivo nodulo di ensen sotto alla quale cominciano a essere segreti numerosissimi segnali numerosissime proteine geni che guidano la migrazione delle cellule si forma questo addensamento all'interno del disco che si chiama notocorda ora come menzionavo prima a questo punto in realtà il disco non è più un disco bilaminare ma diventa un disco trilaminare qua non è rappresentato ma ve lo cerco di spiegarvelo in maniera molto chiara nel più chiara possibile l'epiblasto diventa a questo punto l'ectoderma ecto significa esterno dal greco sempre c'è il foglietto esterno del disco embrionale la parte le cellule migratori che migrano all'interno diciamo dello strato intermedio che formano lo strato intermedio diventeranno mesoderma e le cellule dello strato inferiore diventeranno endoderma quindi questo disco che prima era bilaminare diventa un disco trilaminare ora perché questo è importante perché ognuno di questi strati ognuno di questi foglietti germinativi darà origine a un tessuto diverso l'ectoderma darà origine al sistema nervoso centrale che è quello che ci interessa qui a noi e alla pelle alla cute le cellule della dell'ectoderma danno origine a questi due tessuti infatti è molto interessante il fatto che c'è un'affinità chiaramente che si preserva a livello di questi due tessuti perché per esempio ci sono molte cellule nervose che vanno poi a infilare le loro propaggini all'interno della cute penso ai recettori sensitivi ma soprattutto ci sono molte cellule della cute che quando impazziscono e vanno a formare dei cancri tendono a dare metastasi al sistema nervoso centrale perché c'è un'affinità stretta tra le cellule della cute e i neoni le cellule della glia che sono quelle che costituiscono il sistema nervoso un esempio plateale da questo punto di vista è il melanoma che molto spesso metastatizza al livello del sistema nervoso centrale ora il mesoderma questo era l'ectoderma il mesoderma darà origine alle osse ai muscoli al tessuto connettivo e l'endoderma darà origine agli organi interni quindi polmone intestino e alcune ghiandole questo fenomeno che diciamo definisce questi tre dischi queste questo disco trilaminare si chiama gastrulazione è quello di cui stiamo per occuparci adesso cioè la formazione di questa strea primitiva con il nodulo primitivo e poi la notocorta si chiama neurulazione che come la parola stessa suggerisce suggerisce implica la formazione del sistema nervoso neuro ora andiamo a vedere un po più in dettaglio che cosa succede attorno alla notocorda perché questa è la cosa interessante quindi ripassiamo rapidamente abbiamo tre foglietti a questo punto abbiamo l'epiblasso che è diventato ectoderma abbiamo il mesoderma dentro il quale si va a formare la notocorda e abbiamo l'endoderma l'ipoblasso che è diventato endoderma e queste tre foglietti germinativi daranno origine a tre cose diverse a tre gruppi di tessuti diversi cute sistema nervoso ossa muscoli tessuto connettivo e organi interni intestino polmoni eccetera ora qua viene il bello perché qua entriamo nel vivo della formazione del sistema nervoso a livello dell'ectoderma precedentemente noto come epiblasto chiamato ectoderma si forma questo addensamento cellulare che si chiama il piatto neurale neural plate adesso perdonatemi se la traduzione in italiano non è assolutamente precisa questo questo piastra neurale credo si dica piastra neurale in libri di testo in italiano io purtroppo questa roba l'ho ristudiata anche abbastanza recentemente in inglese quindi purtroppo non mi ricordo più com'era in italiano la definizione precisa però diciamo piastra neurale questa piastra neurale si si addensa no c'è questo addensamento diciamo che si addensa al di sopra della notocorda questa notocorda è un altro addensamento cellulare ora lasciate perdere questi due cilindri ai lati della notocorda ci arriviamo fra un attimo ma quello che è importante capire qui è cosa la notocorda che sta all'interno del mesoderma formerà come abbiamo detto dei tessuti connettivi ecco la notocorda funziona come impalcatura per la nostra colonna vertebrale quello che succederà è che la notocorda grazie a un complesso sistema di segnalazione attraverso quei geni e quelle proteine di cui accennavo prima manderà segnali al resto del mesoderma per formare le vertebre e i muscoli paralertebrali la notocorda poi è una struttura che paradossalmente si atrofizzerà e sparirà e l'unico residuo della notocorda che noi abbiamo nel nostro corpo sono i nuclei polposi dei dischi intervertebrali fra una vertebra e l'altra ci sono i dischi la famosa ernia del disco è quando il disco si rompe e il nucleo polposo esce e provoca compressione a livello dei nervi o cervicali o lombari ecco la notocorda i dischi intervertebrali il nucleo polposo dei dischi intervertebrali sono quello che rimane della notocorda a volte la notocorda può lasciare dei piccoli residui che poi possono degenerare e diventare cancro diventare dei tumori si parla di cordomi e condrosarcomi sono tumori rarissimi ma che sono di grande interesse per i neutri urdi comunque questo ne parliamo magari in una live a parte ora concentriamoci sul sulla piastra neurale di cui parlavamo prima la piastra neurale si ingrandisce si spessisce sempre di più e poi comincia a piegarsi e forma una specie di fossato al di sopra della notocorda come vedete in questa immagine il l'ectoderma che si trova ai lati della piastra neurale la segue segue questo questo invaginarsi della piastra neurale e ci sono dei gruppi cellulari che si addensano ai lati questi gruppi cellulari indicati in verdi qui questa è un immagine presa da wikipedia ma l'ho trovata particolarmente utile a capire questi concetti questo questo questa invaginazione questo fossato che si forma al di sopra della notocorda andrà a costituire effettivamente il nostro sistema nervoso lo vedremo fra un attimo ai lati del ciglio di questo fossato ci sono queste cresse neurali indicate in verdi che anche esse si invagineranno e andranno a formare questa specie di foglietto che poi si addenserà ai lati e sparirà al di sopra del tubo neurale e vedremo a cosa cosa servirà e poi il restante ectoderma che si trova al di sopra diciamo di questa invaginazione piano piano questa invaginazione si chiude forma questo tubo che appunto è il tubo neurale l'ectoderma si fonde sulla linea mediana e questa andrà a costituire sostanzialmente la cute del nostro della nostra schiena e della nostra testa ora al di sotto quindi questa invaginazione ricapitolando neural plate il piatto la piastra neurale si invagina forma questo fossato i cigli di questo fossato i due margini di questo fossato si avvicinano sempre di più fino a fondersi e questa invaginazione della piastra neurale diventa un tubo neurale forma un tubo per il proprio sopra questo tubo queste cresse neurali si formano un fogliettino che poi si addensa ai lati e cessa di esistere centralmente quindi forma quelle che si chiamano delle delle degli ammassi neurali che poi andranno a formare i cosiddetti gangli neurali vedremo in un attimo cosa sono e al di sopra l'ectoderma si fonde copre tutto quanto e formerà la cute che andrà a formare la nostra schiena e la nostra testa ora questo tubo neurale che si trova al di sopra della notocorda notocorda è tessuto connettivo il tubo neurale andrà a costituire il nostro sistema nervoso e vedremo adesso come si svilupperà vi dicevo ci sono queste cresse neurali che poi si addensano ai lati queste cresse neurali andranno a costituire i gangli spinali ora non so se questa è una cosa che è nota ma riassumendola nella maniera più semplice possibile questo tubo neurale andrà a costituire il nostro sistema nervoso dall'encefalo al midollo spinale il midollo spinale ai lati ha dei neuroni che costituiscono degli ammassi neuronali che siano gangli che ricevono la sensazione dalle ossa dai muscoli dal tessuto connettivo e da dalla cute questi gangli spinali sono fondamentali contengono dei neuroni che si chiamano neuroni pseudo unipolari queste cresse neurali andranno a formare questi gangli spinali molto banalmente ora avevamo detto lasciate da parte questi cilindri ecco consideriamoli per un attimo questi cilindri questi cilindri questi addensamenti cilindrici che invece stanno nel mesoderma ai lati del tubo neurale questi addensamenti cilindrici si chiamano sommiti e andranno a costituire seguendo l'impalcatura della notocorda andranno a costituire i corpi vertebrali veri e propri cioè questi migreranno più in basso davanti al tubo neurale andranno a costituire i corpi vertebrali della colonna spinale della della colonna dunque adesso da ora in poi ci concentriamo su questo tubo neurale perché questo è il sistema nervoso vero e proprio il tubo neurale è un tubo se vedete questo schema questo schema qui rappresenta sostanzialmente quello di cui abbiamo parlato adesso c'è tutto questo processo di formazione di questo tubo neurale si chiama neurolazione la neurolazione tutto questo processo in cui si forma questo tubo che si chiama tubo neurale avviene entro il giorno 23 qua dice 23 in realtà entro il giorno 26 per essere completamente completato per essere completato scusate questa è una visione dall'alto di quello di cui abbiamo parlato fino ad ora cioè questo è il disco di cui parlavamo prima tre foglietti ectoderma mesoderma ed endoderma nel disco si forma questa strea primitiva la strea primitiva induce la formazione della noto corda al di sotto infatti è una linea tratteggiata perché non è sulla superficie del disco è al di sotto il tubo neurale il piatto neurale la piastra neurale si addensa al di sopra della noto corda e poi comincia a invaginarsi e a formare questo questo neural groove cioè questo solco neurale che poi piano piano si chiude si chiude dopodiché quando è completamente cilindrico si chiude definitivamente e la parte il polo superiore che andrà a costituire l'encefalo e la parte terminale del tubo neurale si chiude prima intorno alla giornata 24 e il tubo inferiore il polo inferiore l'apertura inferiore del tubo neurale si chiude intorno al giorno 26 27 questo questo processo si chiama neurulazione neurulazione primaria c'è anche una neurulazione secondaria ma ci interessa fino a un certo punto ne parliamo fra un attimo e difetti di questa problematica risultano in problematiche come per esempio il meningocele l'encefalocele cioè nel senso problematiche in cui parte del testuro cerebrale nel neonato quando ci sono delle malformazioni molto serie ernia al di fuori tra virgolette del contenuto del tubo neurale questa neurulazione si chiama primaria e riguarda la maggior parte del sistema nervoso c'è una neurulazione secondaria che riguarda la parte finale del sistema nervoso in cui questo processo non avviene esattamente così quello che succede è che si forma un addensamento di cellule neurali alla base al di sotto del del polo caudale e queste cellule neurali poi si cavitano all'interno formando il cono midollare cioè la parte terminale del cono midollare e poi i nervi tra virgolette lombari è una è un diverso modo tra virgolette di formarsi quando ci sono problemi di ehm eh legati alla neurulazione secondaria si possono avere problematiche come ehm il meningo la spina bifida il meningocele e o il lipocele malformazioni di cui poi tratteremo più in dettaglio in altre in altre lezioni in altre live ora la la neurulazione a questo punto è completa noi abbiamo il nostro bel tubo neurale questo tubo neurale a questo punto comincia a comportarsi in una maniera molto interessante cioè comincia a sottospecializzarsi in eh zone allora questo è il tubo neurale visto di lato e questo è il tubo neurale visto tra virgolette da sopra la prima cosa che succede è che si formano dei rigonfiamenti nella parte superiore del tubo neurale questa è la parte che poi diventerà effettivamente l'encefalo la parte inferiore del tubo neurale diventerà eh il midollo spinale la parte superiore diventerà l'encefalo ora questa zona che stiamo analizzando riguarda principalmente l'encefalo riguarda poco il midollo spinale questi tre rigonfiamenti queste vescicole si chiameranno prosencefalo mesencefalo e romboencefalo allora una breve deviazione da quello che abbiamo detto fino a ora l'encefalo anzi facciamo una bella cosa vi interrompo proprio la condivisione dello schermo e ci cerchiamo su google molto rapidamente una visione dell'encefalo che sia chiara ecco qua ecco questa qui mi sembra ottima molto rapidamente allora scusate per la dilagazione vediamo su eccoci qua allora questa è una condivisione delle prime immagini che ho cercato ecco questa qui mi sembra la migliore allora l'encefalo questa è una visione laterale del nostro cervello e l'encefalo organizzato in gran macro regioni diciamo il cervello umano la parte principale è il telencefalo che è questa zona qua poi c'è una parte centrale al di sotto del telencefalo che si chiama diencefalo e poi c'è questa struttura qui che è il tronco dell'encefalo e questa struttura posteriore al tronco dell'encefalo si chiama cervelletto ora perché vi sto dicendo queste cose di questa roba ne parleremo in maniera molto estensiva in altre in altre registrate in altre puntate ma ecco per i fini di quello di cui stiamo parlando adesso il telencefalo è tutta la zona della corteccia cerebrale che è cosciente il diencefalo rappresenta un po un raccordo fra il mondo esterno e la corteccia cerebrale cosciente un po un filtro a vario titolo sia di sensazioni che di serve anche la programmazione del movimento il tronco rappresenta una struttura ancora più basilare primitiva dentro la quale sono concentrati tantissimi nervi strutture adibite alla respirazione per esempio al battito cardiaco alla regolazione interna e infine c'è il cervelletto che è responsabile della coordinazione del movimento a grandissime linee tutto questo il tronco encefalico è divido a sua volta in tre parti il mesencefalo il ponte e il bulbo ok ora quindi questa questa diciamo deviazione ve la faccio per farvi capire un po meglio quello di cui andiamo a parlare in un secondo quindi riassumendo telencefalo corteccia cerebrale di encefalo la parte centrale del cervello tronco encefalico diviso a sua volta in mesencefalo ponte e bulbo e cervelletto ora torniamo alle nostre diapositive eccoci qua allora queste strutture di cui vi ho accennato adesso nella 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 googleata che ci siamo fatti non si formano tutte insieme si formano a diciamo a scaglioni cioè si formano tutte insieme ma si formano diciamo in maniera leggermente diversa seguendo appunto questa impalcatura data da queste vescicole quindi abbiamo tre vescicole primarie cosiddette una contena si chiama prosencefalo la seconda si chiama mesencefalo la terza si chiama romboencefalo il mesencefalo è l'unica vescicola che rimane esattamente com'è vi ricordate nel tronco vi ho descritto una parte del tronco che si chiama mesencefalo il mesencefalo dà origine al mesencefalo semplice il prosencefalo dà origine a due importanti strutture e romboencefalo a sua volta dà origine a tre importanti strutture allora partiamo dal prosencefalo il prosencefalo cosa significa da origine ribadisco anche se sembra un concetto di base ma può essere non intuitivo quanto poi si parla di questa roba in maniera discorsiva questa roba che si sta formando si forma perché ci sono cellule su cellule su cellule su cellule che si replicano continuamente e che rendono queste strutture sempre più grandi e sempre più diversificate il prosencefalo piano piano si differenzia in due vescicole secondarie quella del telencefalo che darà origine al telencefalo quindi alla corteccia cerebrale vera e propria e al diencefalo la parte centrale più profonda del cervello e quindi comprende strutture come il talamo l'ipotalamo l'epitalamo che queste sono tutte cose che vedremo diciamo in puntate successive molto interessante il fatto che dal diencefalo poi si sviluppano due propaggini di cellule che vanno a infilarsi all'interno dell'endoderma e queste propaggini andranno a costituire le nostre retine i nostri nervi ottici e poi le nostre retine quindi l'ICAP che vedete qui non sono altro che l'abbozzo di quello che saranno gli occhi nell'embrione ora il mesencefalo come abbiamo detto è semplice indicato qui in giallo da origine al mesencefalo e poi il rombo encefalo da origine al resto del del tronco encefalico e al cervelletto quindi si sviluppa in due vescicole secondarie che si chiamano metencefalo e mielencefalo il metencefalo a sua volta darà origine al ponte e al cervelletto attraverso un processo abbastanza complesso di cui parleremo rapidamente oggi ma senza inserire troppo nel dettaglio e il mielencefalo darà origine al bulbo ora un altro concetto importante da dire vi ricordate il discorso che questo è un tubo lo è cioè all'interno di queste vescicole permangono delle cavità all'interno del cervello noi abbiamo tutti delle cavità che si chiamano ventricoli e che comunicano fra di loro e che sono piene di liquido fluido che è come è molto simile all'acqua e si chiama fluido liquido cefalorachidiano ora mentre la parte cellulare esterna solida di queste vescicole costituirà il nostro cervello la parte interna rimane cavitata rimane sono delle cavità letteralmente piene di fluido queste cavità andranno a costituire i ventricoli cerebrali in particolare a livello del telencefalo avremo due ventricoli laterali a livello del diencefalo avremo un ventricolo molto sottile che si chiama terzo ventricolo nel mesencefalo avremo un piccolo canalino di comunicazione che si chiama acquedotto di silvio e nel metencefalo avremo un quarto ventricolo noi abbiamo quattro ventricoli cerebrali due laterali un terzo inferiore un quarto ancora più inferiore più inferiormente nel metencefalo c'è il quarto ventricolo poi ai lati di queste strutture in particolare del ponte ci sono dei piccoli forellini a cui il liquido esce e circola attorno al resto del sistema nervoso ora qua quello che abbiamo descritto fino ad ora la cosa più importante da considerare di quello che abbiamo descritto fino ad ora è che nulla di tutto questo c'è tutto questo processo del tubo neurale che poi da origine alle vescicole che poi da origine alle vescicole primarie che poi da origine alle vescicole secondarie eccetera 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 è un processo che in cui ancora non abbiamo visto neanche un neurone i neuroni qua non esistono ancora queste sono tutte cellule che daranno origine ai neuroni ma non ci non stiamo parlando di neuroni quindi fino a questo punto il feto è completamente incapace non dico di intendere di volere che è ovvio ma anche solo di percepire il mondo esterno la segnaletica che passa attraverso queste cellule è una pura segnaletica segregazione biochimica sono segnali proteici di varia natura che indicano alle cellule dove andarsi a mettere che tipo di replicazione seguire eccetera eccetera ma non c'è nulla 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 che costituisca un sistema nervoso per come lo conosciamo nel non dico nell'adulto ma anche solo nel neonato ora da questo momento in poi poi vedremo uno schema reassuntivo di quando queste questi processi si verificano esattamente ma diciamo che più o meno dal giorno 27 28 giorno non settimana attenzione giorno 27 28 il tubo neurale è formato e cominciano a formarsi queste vescicole successivamente all'interno delle cavità di cui abbiamo visto prima si cominciano a verificare dei processi di addensamento e poi di migrazione cellulare in particolare a livello del telencefalo vedete che si forma questo bozzetto in realtà anche a livello del diencefalo del telencefalo si forma questo bozzo si chiama ganglionic eminence cioè eminenza ganglionica non so nei libri in italiano come si dica accontentatevi scusatemi tanto per questo per questa imprecisione e si forma questa piccola questo bozzo che si chiama eminenza ganglionica e poi si formano degli addensamenti cellulari attorno alla superficie di quelle cavità di cui vi parlavo prima che si chiamano ventricoli le cavità si chiamano ventricoli e questi addensamenti cellulari formano una matrice si chiama matrice germinale questa matrice germinale è quella sono tutte cellule pluripotenti staminali a questo punto ma sono parzialmente committed si dice cioè diventeranno a questo punto cellule gliali e neuroni ed in particolare quello che succede è che nel cervello noi abbiamo due principali abbiamo tanti tipi di cellule ma due principali categorie di cellule abbiamo neuroni ovviamente che sono quelli che effettivamente permettono al nostro cervello di funzionare come funziona e abbiamo le cellule gliali glia deriva anche qua dal greco glu che significa colla e la le cellule gliali sostanzialmente tendono tengono insieme i neuroni li nutrono li separano in certi casi gli uni dagli altri o separano alcune loro propaggini dalla circolazione generale in questo preciso in questa precisa fase dell'embreologia le cellule gliali in particolare si sviluppano si 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 organizzano in maniera radiale cioè perpendicolare rispetto alla superficie della matrice germinale del ventricolo e forniscono l'impalcatura ai neuroni per migrare sulla superficie del teleencefalo i nostri neuroni nel teleencefalo sono tutti disposti sulla superficie alla cosiddetta sostanza grigia mentre invece nel diencefalo nel tronco encefalico nel midollo spinale succede il contrario cioè che la materia bianca che rappresenta le connessioni fra i vari neuroni è disposta sulla superficie ecco nel teleencefalo è la materia grigia essere disposta nella superficie cioè i corpi cellulari dei neuroni sono disposti tutti sulla superficie e ci sono due pattern migratori per cui i neuroni vanno a infilarsi dove si devono infilare e poi cominciano a stabilire delle sinapsi tra di loro il primo pattern più evidente è che dalla matrice germinale risalgono seguendo l'impalcatura delle cellule gliali radiali il secondo pattern invece parte dalla ganglionic eminence e migra sostanzialmente seguendo la parete e la parte interna del teleencefalo questa è una visione autoptica in realtà in sezione che mostra proprio questo cioè queste sono le due eminenze ganglioniche questa è la migrazione non radiale appunto dall'eminenza che si chiama migrazione tangenziale mentre invece questa in rosso è la migrazione radiale la cosa molto interessante di questo tipo di migrazione è che i due tipi di neuroni che migrano seguendo questi due pattern differenti sono di tipo diverso quelli che si dispongono sulla superficie che migrano per via radiale sono neuroni tipicamente glutaminergici se c'è non glutammato scusatemi non glutamina glutammato sono neuroni eccitatori mentre invece questi che si dispongono per migrazione tangenziale sono neuroni inibitori i neuroni inibitori ed eccitatori funzionano di concerto e dipende molto da quello che devono fare quindi non è che non è che i neuroni inibitori necessariamente spengono e i neuroni eccitatori accendono è molto più complicato di così però incredibilmente in maniera molto interessante hanno dei pattern migratori differenti ecco qui cominciamo a parlare di neuroni tra le altre cose questa è una brevissima diapositiva per mostrarvi che questo processo è estremamente raffinato e complesso e ha tantissimi mediatori che lo guidano e può risultare in una serie di malformazioni al carico del feto quando avviene in maniera erronea quando si interviene qualche tipo di errore per esempio la microcefalia è quando questa migrazione non avviene non avviene solo parzialmente cioè il il feto sviluppa un cervello piccolo e poco funzionante stesso problema paradossalmente la polimicrogeria in cui c'è una una tendenza del cervello a sviluppare dei sorchi cerebrali molto molto piccoli la focal cortical display è una condizione relativamente più benigna quello che succede che i neuroni si organizzano in una particolare area focale del cervello in maniera più disordinata in una zona molto specifica del cervello non in tutto il cervello e di solito non dà grandi problemi anche se a volte può dare crisi epilettiche e l'eterotopia è invece una condizione in cui i neuroni praticamente durante questa migrazione radiale si fermano a metà strada o non partono proprio e quindi si sviluppano i neuroni in zone dove non dovrebbero esserci stesso problema tipicamente non è una condizione particolarmente grave a meno che non sia molto diffusa e tipicamente associata ad altre malformazioni ma può causare crisi epilettiche ora ci deve essere un'altra slide qua però non la trovo e quindi interrompiamo un secondo la condivisione e vediamo cosa è successo all'ultima slide perché ci deve essere un quadro riassuntivo che non riesco a trovare non ho capito come mai un secondo poi questo magari lo editiamo in fase di perfetto eccolo qua trovato allora vi mostro questa chrome tab ecco qui allora questa era l'ultima slide che volevo farvi vedere ma per qualche stranissimo motivo se ne è andata dalla mia presentazione in powerpoint e vi fa vedere le ultime fasi dello sviluppo gestazionale allora la neurolozione come abbiamo detto avviene all'interno della sostanzialmente della quarta settimana del primo mese entro il primo mese il il tubo neurale è formato dopodiché dall'ottava settimana in poi comincia a svilupparsi quei processi di migrazione neuronale che andranno a costituire i neuroni ora questi neuroni sono dei neuroni sì qua si comincia a parlare proprio di neuroni ma sono neuroni che non sono funzionanti cioè anche a questo livello il feto non può percepire assolutamente nulla sono soltanto cellule che diventeranno neuroni inseppate fra di loro ma che non hanno una comunicazione vera e propria fra di loro ora questa migrazione neuronale avviene quasi fino alla nascita va avanti lo vedete qua neurone migration avviene quasi fino alla nascita e molto più in là nella gravidanza intorno alla ventottesima settimana comincia il processo di mielinizzazione che cos'è la mielina la mielina è quella struttura costituita da delle diciamo degli acidi grassi particolari appunto la mielina che va a costituire le membrane di alcune cellule gliali di supporto e che avvolge i cavi gli assoni i cosiddetti cavi di comunicazione dei neuroni per garantire una comunicazione fra i neuroni più efficiente i neuroni scarichano fra di loro a grande velocità ma con la mielina la velocità è estremamente più alta ora la mielinizzazione comincia la ventottesima settimana e si completa anche dopo la nascita stessa cosa vale per la formazione di sinapsi le sinapsi sono fondamentali perché i neuroni comunichino fra di loro e cominciano effettivamente a funzionare come neuroni ora ci sono due processi su cui vorrei attirare la sua attenzione prima di chiudere che sono queste quella di sinaptogenesi di apoptosi ora quello che succede fra più o meno la ventesima settimana e la nascita e il punto cardine è sostanzialmente il terzo trimestre quindi più o meno più o meno dalla ventottesima settimana in poi quello che succede è che c'è un processo di sinaptogenesi cioè di formazione delle sinapsi ma anche di apoptosi apoptosi che cosa vuol dire morte cellulare programmata per qualche stranissimo motivo evolutivo il nostro cervello funziona meglio per sottrazione ovvero sia madre natura forma un sacco di neuroni molti di più di quelli di cui avremo bisogno dopodiché ne ammazza una valanga e con le sinapsi fa esattamente la stessa cosa le sinapsi vanno incontro a quello che si chiama synaptic pruning cioè potatura sinaptica in una maniera tale che sostanzialmente di queste sinapsi che si formano dalla seconda dalla ventesima settimana in poi più o meno il 50 per cento poi spariranno non è ben chiaro anche qui c'è una grossa letteratura sull'argomento perché questo avvenga ma avviene e con questo che cosa voglio dire che più o meno più o meno dal terzo mese in poi ok sul terzo mese in poi il feto comincia a percepire qualche cosa niente di quello che il feto sta sperimentando a questo stadio può essere riconducibile a un sistema nervoso funzionante però comincia a percepire delle sensazioni il feto non ricorderà nulla di questo perché la memoria in questo momento non funziona non è una funzione del feto tant'è vero che la prova del 9 ce l'avete molto semplicemente non credo che nessuno di noi ricordi di essere stato in pancia nella pancia della nostra mamma ecco questo è il motivo perché il nostro cervello non ce lo permetteva non era in grado di farlo e comincia a percepire qualcosa ma siamo a livello di percezione non cosciente tant'è vero che i bambini nascono con tutta una serie di percezioni inclusa la visione inclusa la percezione tattite dolorifica eccetera eccetera che non sono abbastanza chiare per niente anzi non sono per niente chiare per il feto il feto prova delle sensazioni che interpreta e il neonato prova delle sensazioni che interpreta come bisogni primari ed è il motivo per cui il bambino neonato sostanzialmente per comunicare qualsiasi cosa piange quasi per comunicare qualsiasi cosa e comincia anche abbastanza è là e di questo ne parleremo magari in un'altra live a riconoscere facce e a riconoscere oggetti questo questa capacità avviene più tardi abbastanza più tardi della nascita ecco questo per dire che riallacciandoci molto brevemente qui io non voglio fare discorsi politici però un cenno rapido il razionale del compromesso entro il terzo mese è questo che sostanzialmente entro il terzo mese il sistema nervoso non è un sistema nervoso è un'impalcatura di sistema nervoso non percepisce niente non c'è nulla di cosciente non c'è nulla di che richiami anche lontanamente il sistema nervoso di un bambino ora rispetto alle sensibilità individuali e l'obiezione ovviamente che chi diciamo si oppone all'aborto pone è che comunque questo è un essere umano in potenza è una è un un feto diventerà un essere umano se lasciato a se stesso e va bene io sto spiegando semplicemente perché c'è questo compromesso legislativo perché nell'atto pratico questo non è un sistema nervoso come lo intendiamo in un bambino neonato diciamo questa è più o meno la panoramica generale di delle prime fasi di formazione del sistema nervoso spero che vi sia stata utile o siamo arrivati intorno ai 45 minuti che era esattamente quello che volevo non vorrei farle più lunghe di così vi inviterei a lasciarmi nei commenti domande richieste di chiarimenti e anche richieste di argomenti su questa su questo su questo su altri su altri topic ogni due tre settimane cercherò di mettere online qualcuna delle lezioni che ho fatto per gli studenti di medicina questo ciclo di lezioni di e di puntate sulle neuroscienze saranno dirette a appassionati di medicina di biologia ma anche a studenti di medicina quindi se volete passare parola a chi è interessato e se può essere utile e e anche a specializzanti e quello che farò è questa sarà una lezione abbastanza di base ma specificherò come ho specificato nel titolo di oggi se la lezione è diciamo per il grande pubblico o se è un po' più specialistica avanz diciamo in particolare quelle di anatomia potrebbero essere un po' più specialistiche un po' più dirette a un pubblico appunto che tra virgolette di addetti ai lavori comunque vi ringrazio a tutti spero sia stato interessante e ripeto questo argomento poi lo riprenderò o riprenderemo magari anche con qualcuno che sia anche più esperto di me ci sono tantissime cose da dire un'ultima nota di colore con cui vi lascio è che una delle proteine più importanti che è implicata nella migrazione nella proliferazione di queste cellule durante la formazione del tubo neurale è una proteina che si chiama SHH cioè sonic edge hog che cos'è sonic edge hog ve lo faccio vedere subito sonic edge hog è lui sonic edge hog è il ricetto del siga master system adesso anche protagonista di vari film e perché ha questo nome questa proteina è letteralmente derivato da lui da questo personaggio perché sembra che lo scienziato che la scoperta che la stava studiando molto banalmente una sera è tornata a casa e penso su una rivista sulla copertina di un videogioco ha visto la figura di sonic e ha detto questo è un nome figo per una proteina la chiamiamo sonic edge hog e quindi questo è il motivo per cui questa proteina che è fondamentale ed è anche importante per alcuni tumori dell'infanzia dell'età pediatrica si chiama sonic edge hog grazie a tutti e ci vediamo alla prossima